Si è aperta con la surroga delle due consigliere dimissionari e la seduta odierna di Consiglio Comunale. Da oggi tra i banchi dell'Aula siedono due nuovi volti. Si tratta di Marta Matano che sostituisce Francesca Menna in quota Movimento 5 Stelle e di Diego Venanzoni che va ad occupare il posto lasciato dalla consigliera del PD Valeria Valente. Il mio compito sarà di portare avanti il programma del Movimento 5 Stelle, quello per i quali siamo stati votati dai nostri cittadini. Io in particolare per attinenza con le materie che ho studiato e per la mia particolare sensibilità cercherò di occuparmi di scuola, welfare, cultura e turismo. Ecco il welfare è uno dei tasti dolenti di questa amministrazione. È uno dei tasti dolenti, ormai i cittadini sono abbandonati a se stessi, come dicono non ci sono soldi, quindi stanno togliendo man mano tutti i servizi essenziali, c'è ben poco da dare ai cittadini al quanto dicono loro e quindi bisognerà cercare di capire come fare a intervenire per dare una mano alle persone che stanno male. Ce ne sono tantissime in città, a cominciare dalle periferie e non solo, anche all'interno dei cosiddetti quartieri bene ci sono anche sacche di povertà e di persone che stanno soffrendo. Senza un pizzico di emozione rientro in queste assise dopo qualche anno. La sintesi è un po' quello che ho anche riferito in aula poco fa. Io credo che la città sia in una condizione di grande emergenza sociale ed economica. Bisogna dare una mano quando vi è la necessità di dare una mano, anche provando a immaginare che se il sindaco mette in piedi attività o provvedimenti utili alla città, io sono ben disponibile a farlo. Quando ci sarà una fuga dalle responsabilità, come spesso avviene, perché le responsabilità probabilmente sono sempre di qualche altro ente o istituzione, allora lì probabilmente andremo meno d'accordo e sarò fermo nel sottolineare le inadempienze che verranno fuori.